Una volta, mentre il treno passava vicino ad Acitrezza, voi affacciandoli allo sportello del vagone esclamaste, vorrei starci un mese laggiù. Noi vi ritornammo e vi passammo non un mese ma 48 ore. I terrazzani che spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi bauli avranno creduto che ci sareste rimasta un par d'anni. La mattina del terzo giorno, stanca di vedere eternamente del verde e dell'azzurro e di contare i carri che passavano per via, eravate alla stazione e, gingillandovi impaziente con la catenella della vostra boccettina da odore, allungavate il collo per scorgere un convoglio che non spuntava mai. In quelle 48 ore facemmo tutto ciò che si può fare ad Acitrezza. Passeggiammo nella polvere della strada e ci arrampitammo sugli scogli. Passammo sul mare una notte romanticissima e l'alba ci sorprese in cima al fariglione. Avevate un vestitino grigio che sembrava fatto apposta per intonare quei colori dell'alba. Che cosa avveniva nella vostra testolina allora, di faccia al sole nascente? Diceste soltanto ingenuamente, non capisco come si possa vivere qui tutta la vita. Giovanni Verga, Fantasticheria Giovanni Verga, Fantasticheria Che cosa avvane channel è? Grazie a tutti